Intro Bentornato Guglier, bentornata Iniziamo questa nuova decade partendo da dove eravamo rimasti la descrizione su Windows 8.1 in particolar modo il suo download da qualche tempo la Microsoft ha rilasciato per noi utenti un link diretto per il download del file di installazione di Windows 8.1 senza passare per il suo store online in modo da poter creare così o un DVD o una pendrive USB Tale copia è totalmente funzionante ed è possibile quindi utilizzarla per poter reinstallare o ripristinare Windows 8.1 Se sul tuo PC hai già una versione genuina ti sarà possibile utilizzare tale file per reinstallare o ripristinare Windows 8.1 senza l'uso del product key Ciò invece non è valido per chi non ha acquistato una versione ufficiale del sistema operativo Infatti utilizzando il file che andremo a scaricare per un'installazione pulita sarà necessario possedere il product key per poter utilizzare totalmente Windows 8.1 come viene eseguito il download Ti puoi collegare ad una pagina dedicata che troverai nella descrizione del video A questo punto potrai senz'altro leggere le informazioni rilasciate dalla Microsoft su tale pagina e potrai scaricare un piccolo eseguibile sul tuo PC Avvia l'eseguibile e dopo qualche secondo comparirà al centro del tuo monitor un rettangolo con il logo della Microsoft Successivamente una schermata ti invita a selezionare il tipo di file di installazione da scaricare o dover creare Dal primo menu potrai selezionare la lingua italiano mentre dal secondo potrai scegliere il tipo di versione da scaricare naturalmente relativa a quella che tu hai già acquistato e verosimilmente installata sul tuo PC Sotto troverai un menu a tendina che ti permetterà di selezionare l'architettura della tua installazione se ha 32 bit o 64 bit Al termine clicca pure sul pulsante in basso a destra Next Nella nuova schermata potrai scegliere se salvare il file su una pennetta USB che verrà formattata pennetta che deve essere di almeno 4 GB o più oppure se scaricare il file in un formato ISO che potrai masterizzare direttamente durante la procedura su un DVD oppure masterizzare successivamente Dopo naturalmente clicca su Next Se sono collegate diverse pennette USB dovrai selezionare quella di tuo interesse e cliccando su Next riceverai un avviso che ti notificherà che tutti i file contenuti all'interno della periferica saranno rimossi Quando sarai pronto o quando sarai pronta dopo aver avuto cura che la pennetta che avrai inserito non contenga file importante clicca pure sul pulsante OK Si avvierà a questo punto il processo di download o scrittura dello stesso dalla periferica Al termine la notifica ti avviserà che la pen drive è pronta all'uso ricordandoti di avere il product key per poter procedere ad un'installazione pulita Clicca pure sul pulsante Finish per terminare tale processo Nel caso invece non volessi impiegare una pennetta USB ma volessi semplicemente scaricare il file ISO da masterizzare su un DVD naturalmente nella schermata relativa dovrai posizionarti sulla scelta ISO file dopo clicca su Next a questo punto seleziona dove dover salvare quindi scaricare il file di installazione e a questo punto si avvierà il processo di download la cui durata sarà variabile in base alle risorse del tuo hardware e dalla banda che avrai a disposizione da internet Subito dopo verrà creato il file ISO nella cartella scelta dove scaricarlo dove memorizzarlo terminato il quale potrai utilizzare tale file per un'installazione dopo averlo masterizzato su un DVD Al termine anche in questo caso clicca su Finish per poter uscire dal processo di creazione del file ISO Eccoci guti nella pagina della Microsoft da dove poter avviare il processo di creazione del file di installazione di Windows 8.1 Puoi scegliere varie metodologie ma sostanzialmente dopo aver letto alcune notizie in questa pagina dovrai andare ad individuare scorrendo il pulsante Create Media sul quale cliccandoci sopra avvierai il download di un programmino un file eseguibile che dovrai avviare subito dopo il download Io infatti l'ho scaricato sul mio desktop è un piccolissimo programma cliccaci sopra due volte per avviare il processo acconsenti pure eventuali notifiche e attendi l'esecuzione del programma Dopo qualche secondo ti comparirà il logo della Microsoft attendi che si sviluppi il programma di installazione In questa prima sezione dovrai eseguire delle scelte dapprima la lingua dell'installazione ovviamente italiano successivamente il sistema operativo che dovrai installare e verosimilmente è già presente sul tuo PC e l'architettura 32 o 64 bit noi scegliamo per 32 dopodiché clicca su Next qui potrai scegliere se creare una pendrive di installazione pendrive che deve essere di almeno 4 GB reali e verrà formattata oppure selezionare file ISO nel quale tu potrai scaricare un file immagine e successivamente masterizzare su un DVD ora selezioniamo appunto quest'ultima opzione e clicca pure su Next ora scegli dove scaricare il file ISO e rinomina se vuoi attuovicere il file che scaricherai dopodiché puoi cliccare su Salva a questo punto inizierà il processo di download il cui tempo sarà non preventivabile il quanto dipende dalle prestazioni del tuo PC e dalla banda passante non ti resta che attendere per ragioni didattiche in fase di montaggio accorcerò tale processo a te non rimarrà che a secondare tutt'al più seguire che tutto proceda per il verso giusto altrimenti ricominciare da capo terminato questo primo processo avverrà il controllo del download che è appena avvenuto anche la durata di questa sezione del download non è preventivabile per cui segui costantemente successivamente il controllo il controllo del file ottenuto e quindi la creazione del file ISO che avverrà proprio dove è stato deciso di essere ubicata in questo caso sul mio desktop questa è la parte finale prima della masterizzazione ecco qui il file è appena terminato e pronto per essere masterizzato su DVD clicca sul pulsante finish per terminare la procedura se invece volessi preparare una pendrive di installazione a questa pagina clicca su next dopo la selezione assicurati che sia collegata una pendrive pulita di almeno 4 GB previa formattazione nel caso fossero presenti più periferiche USB ovviamente scegli quella giusta dopo clicca su next un avviso ti allerterà che tutto il contenuto della periferica verrà rimosso dopo di che clicca su ok e partirà il processo di download come visto in precedenza terminato il download ed aver controllato il file di installazione si avvierà la creazione della tua USB dopo un tempo variabile la creazione della tua pendrive di installazione sarà completata cliccando sul nome della stessa potrai visionare il contenuto della pendrive chiudiamo la finestra e dopo di che cliccando su finish sarà terminato il processo di creazione bene nella prossima lezione inizieremo a spulciare Windows 8.1 ora un forte saluto ciao a presto da Gallo e dalla prossima ciao a presto a presto a presto a presto Grazie a tutti.